a vabbè a me adesso non mi servono perchè ho tutti io grazie prego e vedo dovevi dire tu prego però dettagli no no lo so ti dico grazie solo per giocare con me presenza inquadente e di sicuro è il trapper appunto no sbagliati infatti io il design nello prendo in culo sicuro perché design sono presenti inquadente ai 70 forse l'ottanta che che non lo azzecchi anche lo sbagli bravo per sapisi vabbè allora se il voto facciamo con la tattica io mi faccio colpire tu lo salvi ma io vado ha messo traccia con me vai 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 u porca zoccola no no 0 0 0 0 2006 no 2010 0 0 quel problema non 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 no ciao ciao mi ha dato no è lo filato si ma lo si ricerche piccolissime impossibile prenderlo cioè dai ciò provato è impossibile dai eri viva la sua presenza in cui tanto però è eri viva dove salvarmi rodri libro cominci vedo l'ora di bloccare liberazione che lo voglio c'è subitamente provare è un parco un parco il parco di adam si 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 mi 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 va in bravo la lam da la l'auto vado e vado la carta come campero su motore qui l'ho visto 2 ... ... ... ... ... c'è tanto gradi ho curato che d'avessuto sono non c'è un po' di più ma te ne vuoi andare da me che io di schiena vai da me lo prendo io no volete questo no no è davanti a me frega proprio adrenalina cazzo dici no che cazzo ho fatto no 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 mamma mia no 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 no